Buongiorno, oggi parliamo di Tari, la tassa sui rifiuti, e lo facciamo qui al Tetlis di San Giorgio con un gruppo indipendente di categoria, un gruppo di esercenti, che si sono accorti di alcune irregolarità per quanto riguarda questa tassa. Ce lo spiega adesso Flavio Biondo quali sono queste irregolarità. Ciao, buongiorno. Tutto nasce dalla scadenza di questa Tari, che è una delle tasse molto pesanti per quanto riguarda la ristorazione anche perché c'è un'aliquota maggiore sulle altre categorie. Da questo abbiamo verificato che la Tari, come mai, è così cara. Siamo entrati nel merito con tutto il gruppo, abbiamo fatto una ricerca per assolienti che potevano darci dei dati certi. Raccolti questi dati, all'analisi abbiamo verificato che c'è un'iniquità su questa tassa. Praticamente la tassa, stiamo parlando di utenze non domestiche in questo caso, e viene applicata su tutta la superficie del locale e non soltanto sulla superficie operativa. Quindi praticamente non si tiene conto del fatturato ma soltanto dei metri quadrati. Sì, esatto. Allora, la tassa ha due grossi difetti. Il primo difetto è quello che qui nella nostra zona viene applicata in modo fisso, non in modo puntuale, così come vuole la legge provinciale. Questo lo stiamo dicendo a fronte della risposta che abbiamo avuto dall'assessore dal DOS degli enti locali. Premessa, la tassa per quanto riguarda i ristoranti mediamente è intorno ai 17 euro al metro quadrato, mentre per fare un esempio così semplice, su un ipermercato la tassa è intorno ai 6 euro al metro quadrato. Questo perché? Perché quando siamo andati a chiederlo agli enti preposti ci hanno detto che è stato calcolato che il ristorante è una delle utenze non domestiche che produce più rifiuto. Dov'è l'iniquità tra colleghi e tra categorie? Che questo 17 euro al metro quadrato viene applicato sulla superficie, su tutta la superficie del ristorante. Quindi chi ha un ristorante da 100 metri quadrati, per fare un esempio, va a pagare 1700 euro all'anno. Chi invece ha un ristorante da 200 metri quadrati paga il doppio, cioè 3400 euro all'anno, per fare un esempio. Ma non è la stessa cosa. Se i coperti sono gli stessi? La produzione dei coperti del ristorante da 100 metri o da 200 metri quadrati non vuol dire che il ristorante più grande produce il doppio dei coperti. Anzi, il più delle volte il ristorante più piccolo riesce a gestire al meglio i propri coperti e rischia di avere un giro d'affari analogo. Quindi, se io pago la metà della tassa di fiuti del ristorante più grande, quantomeno ho un'efficienza diversa a livello di costo e mi incide in modo diverso a livello di bilancio. Per quei ristoranti che sono in crisi, di fatti vediamo la lista di ristoranti che vanno a chiudere, diventa veramente un problema affrontare questa tassa. Si è calcolato, avete calcolato quanto sarebbe il risparmio se la Tari fosse ricalcolata in maniera più equa? Insomma, tutte le utenze che fanno parte, le aziende che adesso stanno subendo questa crisi, avrebbero un risparmio del 30% certo. Questa è la prima parte. La seconda parte, che è l'indicazione che dice l'assessore dal DOS, sarebbe da ricalcolare sulle superfici operative, cosa che non viene fatto qui da noi. E questo calcolo non è così certo. Avete l'appoggio quindi della provincia, ma aspetta al comune l'ultima parola? Sì, diciamo che non è proprio un appoggio. La provincia ha detto che non è colpa nostra, noi abbiamo dato delle indicazioni ai comuni, quindi alla comunità di Valle, di comportarsi e di applicare la tassa in modo diverso. Paolo Turrini, da quanto tempo state sondando questa situazione, siete accorti di queste irregolarità e state cercando di cambiare le cose? Diciamo che la scadenza della seconda rata dell'Atari, del 30 settembre del 2014, è quella che ci ha portato un po' a questi ragionamenti. È da allora quindi, o da poco prima che il gruppo si è formato, è da allora che abbiamo cercato di analizzare un po' meglio nello specifico dati e statistiche per poter capire innanzitutto meglio come funzionava il discorso e per poter arrivare magari il prima possibile a raggiungere l'obiettivo di ridurre un minimo di pressione fiscale che è quella che oggi attanaglia tutte le nostre attività. E qual è stata la risposta che finora avete avuto dalle istituzioni? Bisogna dire che inizialmente siamo rimasti abbastanza delusi perché abbiamo spedito le prime raccomandate nel mese di ottobre e non abbiamo avuto un'immediata risposta. La prima risposta ufficiale è arrivata con la lettera dell'assessore Daldossi il 22 dicembre, quindi dopo un paio di mesi. Come esercenti fate tutti parte della ConfCommercio? Sì, questa è una premessa importante. Siamo tutti soci di ConfCommercio per l'Alto Garda. Siamo un gruppo di circa 50-60 esercenti che hanno sottoscritto la prima lettera inviata alle varie istituzioni e diciamo che inizialmente il ragionamento è partito proprio da ConfCommercio cercando di raggiungere un obiettivo insieme a loro. Devo dire che i vertici purtroppo non hanno seguito molto la nostra linea anche se fanno parte di questo gruppo il presidente di istruttore Aldo Tiboni e anche Stefano Barbieri che fa parte del direttivo dei pubblici esercizi. Quindi diciamo che la radice dell'origine del nostro gruppo arriva da ConfCommercio. Questa tassa è iniqua anche perché non è unica per tutti quindi dipende anche da comune a comune. È così Aldo Tiboni? Certo. Ogni sindaco, ogni giunta ha la possibilità di decidere le aliquote. Noi abbiamo fatto delle valutazioni, abbiamo cercato di avere dei dati e concretamente abbiamo saputo che in Val di Letto esempio per quanto riguarda i ristoranti hanno una liquida a 10 euro e 59 per metro quadro arriva a 16,23 per metro quadro addirittura e Arco è la più alta con 17 euro e più metro quadro. Se poi andiamo fuori dalla zona, andiamo in Folgaria tanto per fare un raffronto, ci troviamo con un 6,47 euro metro quadro. Tutto questo ci fa pensare che forse una revisione bisognerebbe farla su queste aliquote. Tutto questo ricade naturalmente sul turismo e noi essendo zona turistica ne risentiamo in modo particolare. Non è così Cristiano Carella? Chiaramente sì. Oltre che il turismo ne risentono anche le nostre aziende che purtroppo sono costrette a far fronte a delle impreviste spese di gestione in cambio di una qualità sempre ottimale che vorremmo sempre dare ai nostri clienti che siano turisti e che siano clienti di zona e mantenere sempre lo stesso livello di qualità. È necessario quindi il ricalcolo dell'Atari in base alle superfici utilizzate e a farlo sono chiamati i comuni, sollecitati anche dalla vostra seconda lettera Stefano Barbieri. Sì, visto la risposta che abbiamo ricevuto dall'assessore dal DOS ci aspettiamo una risposta dalla politica anche perché è molto importante per le nostre aziende ed è sicuramente questione di ossigeno per le nostre attività per continuare a non perdere qualità e per continuare anche a dare lavoro ai nostri dipendenti. Comunque voi non siete contro Confcommercio? Assolutamente no. è il nostro sindacato e quindi ci aspettiamo che ci aiuti perché noi abbiamo bisogno di loro. Ma tu Paolo che hai il ristorante Lora, quanto paghi di Tari? Se mi prometti che non cadi dalla sedia te lo dico io sono circa 12 mila euro all'anno. E a questo punto è davvero necessario prendere dei provvedimenti spetta alle autorità, alle istituzioni e alla Confcommercio prendersi a carico la responsabilità di non mettere in ginocchio le aziende. Grazie. Grazie.